Le ipotesi di scomposizione dell'esecutivo regionale sono ricostruzioni da realtà aumentata con intuizioni suggestive di stampa. E' quanto dichiara in una nota l'assessore della regione Abruzzo Silvio Paolucci, commentando i rumors che vorrebbero grandi manovre nella giunta dopo la lettera di Gerosolimo e di Matteo, con il presidente che avrebbe già deciso la exit strategy. Ogni decisione verrà presa collegialmente dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta regionale, continua Paolucci, smettendo così quanti vorrebbero salva la posizione di Gerosolimo e della sua lista civica, sebbene ha manifestato apertamente il suo dissenso, l'ingresso, anzi il ritorno di Mazzocca, sempre in giunta, assieme all'appoggio di Giorgio D'Ignazio, naturale prosecuzione del percorso che lo ha visto candidato con la civica popolare della Lorenzina all'interno del centrosinistra nelle passate elezioni politiche. Proprio il consigliere all'opposizione in consiglio regionale allontana da sé ogni lazione e afferma di non voler fare la stampella di nessuno. Inviterei chiunque dà queste notizie alla stamba di finirla perché non sono merce di ricatto, la maggioranza deve trovare al suo interno i propri numeri per poter governare, quando presenterà delle leggi che fanno a mio avviso il bene del nostro territorio sarò lì a fianco a votarle, quando invece queste non le ritengo giuste non le voterò, ma adesso basta veramente.